Musica Da quando sono stata Ministro del Turismo mi batto per rendere l'Italia più animal friendly, quindi promuovere la nascita di strutture turistiche dove i nostri piccoli amici sono i benvenuti sul sito www.vacanzea4incifrazampe.info Potete trovare migliaia di indirizzi di alberghi, spiagge, agriturismo, ristoranti, campeggi e tante tante offerte turistiche dove per i cane, per il gatto e per i vostri piccoli amici in generale non solo via libero accesso ma ci sono una serie di servizi per accoglierlo e farlo sentire davvero in vacanza perché il momento del relax, il momento in cui noi smettiamo di lavorare, il momento in cui vogliamo trascorrere il tempo più bello con i nostri cari il nostro cane, il nostro gatto sono membri della famiglia e quindi è giusto portarli insieme a noi in vacanza. Un'Italia animal friendly, un'Italia di grande civiltà dove con i nostri piccoli amici possiamo muoverci, spostarci praticamente ovunque senza incorrere in mille anacronistici e assurdi divieti e una cosa sicura io continuerò a interpretare le istanze di questi milioni italiani che vogliono poter trascorrere la loro vita insieme al cane, al gatto o a quello che è l'animale che hanno scelto come compagno senza doversene separare mai. L'iniziativa di oggi con la premiazione per l'edizione 2016 di tante strutture turistiche che accolgono i nostri piccoli amici e a loro riservano servizi particolari ha anche il significato di voler contrastare in maniera ancora più efficace il terribile fenomeno dell'abbandono che ancora affligge il nostro paese. Grazie